Martedì sera 20.45 Lazio Toro, voglio ora il moro titolare oppure le dimissioni di Simone Zaghi? Esagero? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso da Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riesci alla notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. E per favore se ti piace il video metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Martedì c'è Lazio Torino, partita che per la Lazio non significa più nulla, perdi le ultime due partite comunque finisci sopra la Roma e in Europa League, vinci le ultime due partite comunque finisci in Europa League sopra la Roma, basta, non può cambiare più la stagione della Lazio, purtroppo con la brutta sconfitta nel derby la stagione della Lazio è chiusa. Bene, quindi Lazio Torino è la partita perfetta per far giocare titolare Raul Moro, non ci sono più scuse per Simone Zaghi, non c'è più nulla da chiedere al campionato, non c'è necessità di far giocare Correa o Caicedo, Raul Moro è un talento che da due anni aspettiamo di vedere in campionato, questa è la partita in cui Raul Moro deve giocare titolare. Deve, non ci sono giustificazioni, non ci sono alternative. La Lazio non ha nulla da perdere, perdi contro Torino, hai perso il derby malamente, cioè peggio di così non può succedere niente. Almeno vediamo se il talento spagnolo che in primavera fa la differenza in ogni partita è un giocatore che ha la potenzialità per fare bene in Serie A e per dimostrarlo deve giocare. E la partita contro Torino è perfetta perché la Lazio non perde niente, non ha nulla da perdere e lo spagnolo può giocare con tranquillità contro una squadra tutto sommato alla portata che si lotta per la salvezza e quindi è un test importante. Anzi, io aggiungo che forse sarebbe il caso di far partire il titolare anche Nicolo Armini. Stessa situazione di prima, la Lazio non ha nulla da perdere, il ragazzo ha 19 anni, è giusto che inizi a giocare in Serie A, facciamolo giocare. Inzaghi non ha una scusa per non far giocare questi due ragazzi. Ripeto, la Lazio non ha nulla da chiedere a queste due partite, è la partita perfetta per dar spazio a questi ragazzini. In Inghilterra, Manchester City lotta per lo scudetto e butta dentro Foden e adesso vediamo tutti che fenomeno che è, ma se i ragazzini, i 18 anni, i 19 anni non giocano mai, non potranno mai dimostrare di essere forti. La Lazio ha già toppato in pieno con Pedro Neto, cerchiamo di non ripetere l'errore con Raul Moro. Io non sto dicendo che Raul Moro è un fenomeno, sto dicendo che in primavera fa la differenza e la primavera per lui è inutile. Deve, deve assolutamente confrontarsi con il calcio che conta, con la Serie A, per vedere a che punto sta e dove migliorare. Io non dico che Raul Moro gioca contro Torino e fa una doppietta, anzi. Però deve iniziare a giocare e questa volta Inzaghi non ha scuse, non ha giustificazioni. Correa non sta bene, Caicedo non sta bene, buttiamo dentro Raul Moro. Può giocare vicino a Murici, va benissimo. Basta che Raul Moro sia titolare dal primo minuto di gioco. Secondo me anche Niccolò Armini dovrebbe giocare anche più perché Acerbi è squalificato, quindi in difesa siamo contati. Inzaghi deve dare spazio ai giovani e se non lo fa, beh, Claudio Lotito deve chiedere spiegazioni perché questi ovviamente sono poi problemi che riflettano sulla società. Perché Raul Moro è venuto dalla Lazio perché Glitari gli ha promesso che avrebbe trovato spazio, beh, i risultati dicono tutt'altro. Raul Moro in due stagioni ha giocato le bricioli lo scorso anno, neanche quest'anno, in Serie A. Ripeto, io non dico che Raul Moro sia un fenomeno, però di giocatori della primavera è sicuramente più forte e a mio avviso deve giocare nel calcio che conta. Ci sono due partite inutili per la Lazio, due partite che invece possono essere molto importanti per questi giovani. Io onestamente riempirei anche la panchina di giocatori di primavera buttandoli dentro magari nel secondo tempo. Però Raul Moro e Armini devono assolutamente giocare isolari contro il Torino, una partita che la Lazio ha poco da chiedere, una partita dove finalmente si può vedere il livello di questi giocatori, ancora di più perché il Torino deve vincere e quindi non sarà una scampagnata e quindi Raul Moro sarà realmente testato, Niccolò Armini sarà realmente testato. Perché finora siamo qua tutti a parlare, ah Raul Moro è fortissimo eccetera, Armini ma perché non gioca eccetera. Ecco, martedì li metti in campo e replichi ovviamente domenica prossima e così finalmente vediamo di che passa sono fatti questi giocatori. Premettendo che nessuno si deve aspettare che Armini faccia un partitone e Raul Moro una tripletta. No, però bisogna vedere dei lampi delle giocate di questi giocatori per vedere dove possono arrivare, a che momento sono nella loro crescita e se sono dei giocatori da Serie A. Io onestamente penso che Raul Moro sia pronto per la Serie A, ovviamente deve crescere, però è un giocatore che la Lazio non può, non può non far giocare titolare martedì. Ripeto, se Inzaghi non mette Raul Moro titolare martedì è da esonerare subito perché rovina un patrimonio della Lazio. Questo è un giocatore giovane, talentuoso, che la Lazio ha pagato 6 milioni di euro, quindi non proprio spiccioli, che secondo me ha un futuro luminoso davanti a sé. Già ha sbagliato Pedro Neto, adesso lo vediamo al Wolverhampton, non solo nazionale portoghese titolare, insomma un fenomeno che la Lazio aveva in pugno e che Inzaghi ha fatto andare via perché non lo utilizzava mai. Vediamo se ripete l'errore con Raul Moro. E ripeto, io voglio anche Nicolo Armini dentro e magari nel secondo tempo Shew o qualche altro giovane interessante della primavera. Questo è il mio giudizio, voi che ne dite scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.